ogni volta cambia quale percorso hai scelto adesso? cercare di scegliere il più lungo, ho girato, sono passato di qua, sono arrivato sull'angolo lì giù, poi sono arrivato dal quadrato celeste, sono tornato indietro, poi per di qua e ho girato hai calcolato quanti passaggi hai fatto? non ho per fare tutti, però li conto ogni volta ok, quindi fai step by step, te invece? voi come l'avete calcolato? abbiamo cercato di fare con Luca, usando pure vari colori diversi noi ci siamo riusciti, è solo che anche questo caffè è un po' rinchiato, quindi si ferma a volte però all'al fine nemmeno ci siamo riusciti ci siamo riusciti